La situazione del settore dei call center in provincia dell'Aquila è drammatica. Nella sola città 1.500 persone sono impiegate nei call center, numeri importanti che meritano considerazione, considerando che in molte famiglie aquilani entrambi i genitori, ad esempio, lavorano in questo settore in crisi. Domani a Roma ci sarà un tavolo al Ministero del Lavoro. Qui i 34 lavoratori ex-care conosceranno la loro sorte. A questi è stato chiesto in pratica di trasferirsi a lavorare a Roma. Sembra quasi però di vedere una sorta di licenziamento mascherato per il sindaco Biondi. In conferenza stampa, assieme ai lavoratori e al primo cittadino, anche il leader di azione politica Gianluca Zelli, assieme ad alcuni esponenti aquilani del movimento politico. Abbiamo due strade. Da un lato chiederemo, dopo le elezioni, per sottrarre questa vicenda alla competizione, un incontro con il Ministro o eventualmente con il sottosegretario, perché il Ministro Di Maio è già stato messo al corrente di questa situazione attraverso la consegna di un dossier che è stato anche replicato. La prima volta quando è venuto a consegnare le ambulanze, la seconda volta in occasione della visita all'ex-ompi. Un altro particolare canale potrebbe essere quello di introdurre una norma specifica sull'Aquila, perché il fatto che noi abbiamo Restart sta a significare che c'è un'eccezionalità di situazione sul nostro territorio legato alle vicende economico-occupazionali, per chiedere che le clausole sociali che riguardano lavoratori che sono qui in città si applichino non soltanto nella continuità contrattuale, ma anche a livello territoriale. Domani c'è il tavolo al Ministero, quindi abbiamo condiviso una serie di argomenti su cui lavorare insieme, quindi innanzitutto la sistemazione della clausola sociale e della rioccupazione dei lavoratori che comprenda anche di rioccuparli all'interno della stessa area, e quindi nel caso specifico l'Aquila. E poi soprattutto conoscendo noi come si costruisce un po' il costo dei call center, dove l'80-90% è il costo del lavoro, quindi prendere anche un impegno per il futuro nel momento in cui siamo in Regione per lavorare sui fondi sociali, per cercare di andare a fare bandi specifici che le aziende possano adoperare nell'abbattimento del costo del lavoro. Anche perché questo è quello che è successo in Puglia, questo è quello che è successo in Sicilia. Oggi la maggior parte dei call center sono in Puglia, proprio perché sono stati usati meglio di noi il Fondo Sociale Europeo in questa logica, in questo modo.